La provincia di Teramo sta vivendo un periodo di grandi incertezze economiche. La crisi di Stellanti si sta adestando non poche preoccupazioni. L'azienda attiva nel settore automotive ha le prese con difficoltà che si riflettono anche sull'intero indotto locale, ponendo interrogativi sul futuro dell'occupazione e sul benessere economico della comunità. Il calo della produzione e le incertezze legate agli investimenti futuri hanno generato un clima di apprezzione tra i lavoratori e le loro famiglie. Sì, purtroppo è una situazione che destra molta preoccupazione perché questa situazione di incertezza in generale che è legata nel caso nostro a Stellantis ma anche ad altre dinamiche che sono quelle del mercato tedesco e quelle del settore dell'agricoltura iniziano già ad evidenziare i primi contraccolpi, le prime conseguenze anche sul nostro territorio. Ne stanno già facendo le spese diversi somministrati, cioè i lavoratori assunti dall'Agenzia per il Lavoro e sono già dei segnali che quindi ci preoccupano, rispetto ai quali il nostro invito è quello di cominciare anche a guardare quello che la Regione può mettere a disposizione in termini di risorse che potrebbero servire per riqualificare il personale e per farsi trovare una volta tanto pronti a degli scenari che magari in questo momento ancora in molti stanno sottovalutando. Insomma, l'appello è quello di evitare che ci si trovi poi di fronte alla solita storia all'italiana in cui tutti quanti rimangono sorpresi per quello che si verifica, ci sono le condizioni sfruttando le risorse che la Regione sta mettendo a disposizione per non farsi cogliere impreparati e quindi nell'attesa che poi a livello nazionale ed internazionale queste partite vengano definite. In questo contesto la CISL fa appello alle istituzioni affinché riflettano sulle sfide attuali e avvino un percorso condiviso per sviluppare politica attiva a sostegno del territorio. Siamo sempre più convinti che la provincia di Teramo ci si muova troppo in ordine sparso. Abbiamo sempre detto e lo ribadiamo anche in questa occasione che sarebbe opportuno convergere rispetto a un'idea di provincia di Teramo. Cioè la domanda è, nei prossimi decenni questa provincia per cosa si dovrebbe caratterizzare? Abbiamo sicuramente delle cose su cui puntare che potrebbero essere la sanità, l'università. Ma l'invito è appunto quello di non procedere ciascuno per la propria strada ma sedersi una volta tanto e capire che tipo di prospettiva si possa garantire a questo territorio.